Nel corso delle nostre ricerche abbiamo molte volte parlato di possibili civiltà precedenti alla nostra e soprattutto di sopravvissuti che avrebbero potuto ripopolare il pianeta dopo un immane cataclisma, ovvero che si sarebbero spostati in varie parti del globo anche per riportare la conoscenza, e non solo, verso coloro che erano scampati a questo disastro globale ma si trovavano ancora ad uno stadio di civilizzazione diverso. Su questa scia sono stati molti gli studiosi italiani e stranieri che negli ultimi decenni hanno dedicato le loro ricerche a questa affascinante possibilità che per molti di noi è quasi una certezza. Vorrei anche ricordare e aprire un piccolo inciso su come ieri come oggi la coesistenza di una o più civiltà progredite, con tutto quello che può comportare questa parola, insieme ad una anche molto meno avanzata, sia del tutto plausibile e naturale. Lo è anche ai giorni nostri. Viene naturale pensare ai sentinellesi, una popolazione di cui abbiamo già parlato, che vive nell'isola di North Sentinel, nelle isole andamane, Golfo del Bengala in India, che ancora oggi vive in quello stato che per noi fu l'età della pietra e che risiede stabilmente sull'isola da 60.000 anni. Ma vorrei focalizzare la nostra attenzione su una specifica questione che potrebbe fornirci nuovi dati e spunti davvero interessanti, su cui ragionare nonché moltissimi elementi su cui riflettere. Diversi autori negli ultimi decenni hanno ipotizzato con un alto grado di attendibilità come a seguito della fine dell'ultima glaciazione e del parallelo impatto di un oggetto come planetario o meteorico nella nostra atmosfera, periodo definito Younger Dryas e collocabile circa 12.800 anni fa, buona parte della popolazione umana si fosse trovata sull'orlo dell'estinzione. La cosiddetta civiltà di Clovis nell'America settentrionale, ad esempio, fu totalmente decimata. La domanda che mi sono fatto è, quale sarebbe il numero minimo di persone in grado di preservare la specie umana dopo un disastro globale di questo tipo? Ovvero quanti individui sarebbero necessari non solo per preservare le conoscenze, ma soprattutto per ripartire e generare nuove generazioni sane senza incorrere in quei problemi di deriva genetica e mutazioni che renderebbero in breve tempo impossibile avere una discendenza sana e longeva. Ci arriveremo per gradi. Intanto, e sulla base di molte scoperte archeologiche compiute soprattutto negli ultimi anni, possiamo affermare con un alto grado di sicurezza che prima di questo evento catastrofico sul nostro pianeta erano presenti sia culture e civiltà definibili come ancora non evolute tecnicamente, si veda ad esempio i sentinellesi delle andamani, sia una o forse più culture che possedevano un grado di sviluppo, cultura e civilizzazione molto più avanzato dei loro vicini cavernicoli se mi passate il termine. Quale quanto fosse avanzata questa o queste civiltà è ancora tutto da appurare. Questa nostra domanda si applica non solo ovviamente a futuri viaggi nel cosmo, ma anche forse con ancor più forza a quelli che potrebbero essere stati eventi passati di cui ci occupiamo da molti anni e che potrebbero aver portato realmente la razza umana sull'orlo dell'estinzione. Pochi individui iniziali o scampati da un immane cataclisma comporterebbero inevitabilmente seri problemi dovuti principalmente al sorgere di malattie nel corso delle prime generazioni dovuto ad una variabilità genetica scarsa. Uno studio condotto tra il 1933 e il 1970 in Cecoslovacchia aveva già evidenziato come il 40% dei bambini nati da genitori imparentati nel primo grado possedessero un handicap grave e come questo risultasse mortale nel 14% dei casi. Rimando gli interessati a quest'articolo ma anche alla vasta letteratura in esame in cui si possono chiarire tutti i dubbi in merito. Un altro esempio chiarificatore di questa deriva genetica venne studiato sull'isola di Pinchlep nel Pacifico occidentale quando nel 1775 un tifone uccise il 90% della popolazione locale lasciando soltanto una ventina di superstiti. Il loro tentativo di ripopolare l'isola aprì la strada all'acromatopsia una sorta di cecità ai colori che si trasmette per via genetica. Di norma si manifesta in un americano su 33.000 sull'isola che oggi ospita meno di 400 abitanti ne soffre un decimo della popolazione. Un altro degli effetti dell'accoppiamento fra individui geneticamente affini e nel caso ci trovassimo in un'arca spaziale ipotetica così come superstiti di un immane cataclisma sulla terra è la diminuzione della qualità degli spermatozoi e quindi anche della fertilità. Nei pappagalli neozelandesi cacapo rimasti ormai in un numero sparuto di appena 125 esemplari la percentuale di uova che non si schiudono è salita dal 10 al 40 per cento. Il rischio sarebbe quindi una infertilità diffusa nella popolazione presa in esame. Nel caso di Homo sapiens ad esempio le unioni con i Neandertal e verosimilmente anche con i Denisova secondo molti studiosi avrebbero permesso ai nostri antenati di avere una spinta maggiore dal punto di vista genetico con un potenziamento del loro sistema genetico e immunitario che ne avrebbe impedito un impoverimento del DNA entro breve tempo. Anche in questo caso una bassa diversità genetica dovuta alle unioni in una popolazione ristretta porterebbe a indebolire questa difesa rendendoci quindi molto vulnerabili a molte minacce per il nostro organismo. Si inserisce quindi in questo contesto il concetto di popolazione minima vitale umana un paradigma che si riferisce al numero minimo di individui necessari per garantire la sopravvivenza a lungo termine di una specie tenendo conto dei fattori demografici genetici e ambientali che ne influenzano la sua vitalità. Non esiste una formula univoca per calcolare questo valore che dipende da molti parametri come il tasso di natalità e mortalità, la variabilità genetica, la distribuzione geografica, le risorse disponibili e le minacce esterne. Tuttavia alcuni studi hanno cercato di stimare la popolazione minima vitale umana basandosi su modelli matematici e simulazioni. Uno dei primi tentativi di definire una soglia minima base che impedisse la perdita di variabilità genetica in una specie fu fatto nel 1980 dal genetista australiano Ian Franklin e dal biologo americano Michael Soule. Crearono la regola 50-500 in cui si suggeriva che fosse necessaria una popolazione minima di 50 individui per combattere la consanguinità e che fosse necessario un minimo di 500 individui per ridurre la deriva genetica. Si tratta certamente di una stima di massima ma la cosiddetta biologia della conservazione, una disciplina che tratta questioni relative alla perdita, al mantenimento, alla ristorazione della biodiversità, ne ha assorbito la validità applicandola al mondo animale. Sotto la soglia dei 500 individui la popolazione viene considerata come impossibilitata a sopravvivere in natura, salvo beneficiare di misure proattive di protezione ex sito, cioè in un luogo circoscritto come ad esempio con riproduzione in cattività o in ambiente protetto. Questa legge scaturisce dalla modellizzazione delle dimensioni minime ed effettive delle popolazioni di Franklin con il suo studio del 1980 e Land Barrow-Clough del 1987. Si tratta di una formula validata da altri autori quale Frankham nel 1995, Franklin e Frankham nel 1998, Laudet e Peltier nel 2005, ma non ha valore predittivo assoluto in quanto devono essere considerati numerosi altri fattori che potrebbero cambiare radicalmente le carte in tavola. Si sa ad esempio che in assenza dei loro predatori naturali, specie introdotte in un ambiente possono proliferare a partire da un piccolissimo numero di individui. Uno studio invece del 2014 ha usato un modello basato sugli agenti per simulare scenari di catastrofi globali che potrebbero ridurre drasticamente la popolazione umana, come una guerra nucleare, una pandemia o appunto un impatto di un asteroide o una meteora. Gli autori hanno concluso che la popolazione minima vitale umana si collocherebbe tra i 4200 e i 4800 individui, a condizione che siano distribuiti in modo equo tra le regioni del pianeta e che abbiano accesso a sufficienti tecnologie avanzate per la produzione del cibo e di energia. Questo ovviamente se ci riferissimo ad una civiltà già avanzata dal punto di vista tecnologico. Un altro studio del 2018 ha usato invece un modello basato sulla genetica delle popolazioni per valutare il rischio di estinzione umana in relazione alla perdita della diversità genetica. Gli autori hanno stimato che la popolazione minima vitale umana sarebbe tra i 98 e i 144 individui, assumendo che siano geneticamente diversi tra loro e che non ci siano gli effetti negativi della consanguineità. Queste stime sono solo indicative e come vedete variano considerevolmente da contesto a contesto in cui si collocano e ancor più non tengono conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la sopravvivenza umana in situazioni estreme. Inoltre la popolazione minima vitale non è uguale per tutte le specie ma dipende dalle loro caratteristiche biologiche ed ecologiche. Per esempio le specie con una capacità riproduttiva elevata possono tollerare una riduzione maggiore della popolazione rispetto a quelle con una capacità riproduttiva più bassa. Detto questo però anche nella peggiore delle ipotesi sembra oltremodo verosimile ritenere che anche con un numero abbastanza esiguo di soggetti, preferibilmente ovviamente non imparentati tra loro, la sopravvivenza di un gruppo umano sarebbe possibile e plausibile. Se una sola coppia quindi non bastasse, come nel caso del racconto biblico di Adamo ed Eba, quanti individui sarebbero realmente necessari per garantire la nascita di una popolazione di terrestri sani. Se dovessimo considerare un solo luogo geografico da cui questa nuova umanità potrebbe ripartire, si parlerebbe allora di 500 fino ai 5.000 individui per sopperire alle perdite genetiche casuali che avverrebbero tra generazione e generazione. Nel caso invece di un viaggio spaziale, per esempio verso Proxima Centauri a 4,2 anni luce dalla Terra, i numeri cambierebbero considerevolmente. Per scongiurare in croce i traconsanguini e quindi riequilibrare l'elevato tasso di mortalità messo in conto per i viaggi spaziali, in un ambiente limitato e circoscritto, una missione intergenerazionale dovrebbe trasportare almeno tra i 10.000 individui e fine 40.000, meglio se suddivisi in più astronavi nel caso qualcuna venisse persa durante il viaggio. Esiste poi la lista rossa delle specie minacciate o red list, cioè una banca dati globale delle specie a rischio di estinzione imminente. Nel mondo ad oggi il 25% delle specie per cui è stata fatta una valutazione è risultato a rischio. Una bassa percentuale di soggetti costituisce ovviamente un possibile fattore di estinzione di una specie. Il nodo centrale della questione può essere riassunto nel fatto che perché una specie possa sopravvivere nel lungo periodo non è unicamente sufficiente che abiti su un determinato pianeta con pochi individui in grado di filiare e proseguire la specie, ma è necessario almeno un numero minimo di soggetti quantificabile statisticamente. Appunto la popolazione minima vitale. La popolazione minima vitale è una percentuale, un numero di soggetti in grado di sopravvivere per un certo lasso di tempo con una determinata probabilità. La regola del 50-500 sembra essere la più verosimile in questo caso. Da un punto di vista demografico se una popolazione è composta da pochissimi individui è possibile che in una delle generazioni future questi individui si riprodurranno pochissimo come abbiamo visto, non riusciranno a generare una prole e quindi la popolazione finirà con l'estinguersi. Da un punto di vista genetico se una popolazione è molto piccola aumenta, come abbiamo visto sono stati condotti molti studi su questo tema e i risultati, come dicevamo, sono che un numero di popolazione minima vitale deve essere compreso tra i 50 e i 500 umani, ma solo a determinate condizioni. Il gruppo dovrebbe essere composto da soggetti che non sono imparentati. Quando si arriva a un numero così basso è necessario un gruppo di persone il più vario ed eterogeneo possibile. Se invece i membri sono troppo vicini a livello parentale allora avremmo bisogno di un numero più alto di soggetti stimato appunto in 500. Quindi se venissimo colpiti da un asteroide e solo un piccolo villaggio venisse magicamente risparmiato dall'impatto, probabilmente avremmo bisogno di almeno mille persone in quel villaggio perché la nostra specie sopravviva, ma se i sopravvissuti fossero sparsi in tutto il mondo allora sarebbe necessario un minor numero di soggetti, così ci dicono gli studi, in quanto la vicinanza genetica sarebbe molto più bassa e ridotta. Aggiungete poi la perdita quasi totale della conoscenza umana se non fosse preservata in altro modo, la lontananza tra loro dei sopravvissuti che potrebbero essere sparsi in diversi continenti, questo renderebbe il ripopolamento molto più complicato, nonché l'aumento drastico dei grandi predatori se non si fossero estinti anche loro con l'evento che abbiamo descritto, che nel caso fossero vivi sarebbero liberi di vagare al loro piacimento senza più un contenimento umano. In altre parole la regola del 50-500 persone sarebbe valida in condizioni ottimali, ovvero con un livello sufficiente di conoscenza tale da permettere di potersi difendere da eventuali grandi predatori e con nozioni in grado di permettere abbastanza rapidamente di ricreare un habitat di vita sicuro ed in grado di permettere la generazione di una nuova prole. Personalmente ritengo quindi che una civiltà precedente alla nostra abbia avuto un numero di soggetti risparmiati e sopravvissuti a un evento cataclismatico come la fine dell'ultima glaciazione e l'impatto meteorico dello Younger Dryas abbastanza cospicuo, tale cioè da evitare la genetica e in grado di permettergli di iniziare nuovamente e da zero le basi della storia umana. Mi vengono in mente luoghi come le città sotterranee turche, in particolar modo di Rincuio, che poteva ospitare fino a 20.000 abitanti insieme alle altre 200 città sotterranee turche censite dall'UNESCO. Ma non solo, l'intero pianeta è costellato di leggende e tradizioni di uomini e donne scampati ad un diluvio e che sono stati all'origine di nuove umanità e nuove civiltà. Potremmo pensare che questi luoghi siano stati focolai per una nuova umanità che sarebbe rinata dalle sue ceneri non considerando altri luoghi simili sparsi per il resto del pianeta. Diamo tutto per scontato, non rendendoci conto di quanta bellezza realmente ci circonda, ma allo stesso tempo di quanto possa essere effimera. Il concetto di popolazione minima vitale e la scoperta di una storia dimenticata e precedente a quella attuale dovrebbero essere i nostri testimoni silenziosi per portarci a rispettare la natura e a divenire una umanità migliore. Grazie 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 Grazie